Le visite dei ladri erano diventate ormai un appuntamento fisso per un uomo di Kurtarolo. Dopo l'ennesimo furto messo a segno nella sua proprietà, il padovano è arrivato a sparare alcuni colpi in aria con una pistola finta. Pallini di un'arma giocattolo che però hanno ottenuto lo scopo desiderato. I ladri sono fuggiti a mani vuote. Il proprietario che racconta di passare le domeniche a controllare il perimetro di casa ne ha infatti avuto abbastanza. Due giorni fa, dopo aver avvistato alcune persone che cercavano di rubare degli attrezzi dal garage, è corso in casa a prendere una pistola giocattolo e ha sparato qualche colpo in aria mettendo in fuga i malintenzionati.